Periferie, come sempre qui con noi, come tutti i martedì, Walter Cherubini, consulta Periferia Milano. Buongiorno, Walter. Buongiorno, ben ritrovati a tutti quanti, a questa che è la 173esima puntata di Focus Periferie. Ospite che non passa inosservato anche dalla nostra inquadratura di arancione vestito, non è un Harry Krishna, ma che ci hai portato oggi come ospite. Massimo Astori, che è un volontario di lungo corso dal 1975 della Croce Verde Sempione. L'occasione ci è data in particolare dal convegno che avevamo preannunciato nella scorsa puntata, che si è tenuto il 21 febbraio a Palazzo Reale. Convegno nell'ambito, diciamo, una delle iniziative conclusive del centenario degli antichi comuni milanesi, perché infatti la Croce Verde Sempione si chiamava Croce Verde Musocco. Musocco. Ci sono stati, no, Walter, la sede, che è stata anche sede del comune di Musocco per un periodo giusto? Esattamente, che è l'edificio che ha ospitato, ha sempre avuto una funzione pubblica, mettiamola in questa maniera, e anche altri edifici che sono ancora rimasti in piedi, che erano sede degli antichi comuni milanesi, svolgevano allora una funzione civica, e anche oggi svolgono una funzione civica sociale, perché sicuramente quello che fanno le Croce Verde, e in particolare la Croce Verde Sempione è un'iniziativa sociale. Quindi, dicevo, in questo convegno abbiamo voluto, con un'iniziativa della Presidenza del Consiglio Comunale di Milano e del Tavolo Periferi Milano, hanno voluto fare un ragionamento su anche un po' questa ambrosianità, questa identità, chi è che la porta, chi non la porta, da chi la si impara, e quindi un'ottantina di realtà di varia natura, dalle cooperative abitative, ai negozianti, alle aziende, piuttosto che alle iniziative culturali, pensiamo alla banda d'afori, piuttosto che al corpo musicale di Crescenzago, e quindi anche alle Croce Verde, in questo caso Baggio e Sempione, e quindi riconoscere queste presenti perché hanno attraversato cento anni di storia, e quindi sono sicuramente un elemento di identità da dove cogliere questa ambrosianità. Massimo, volontario di lunga data, diceva Walter, io vedo un numero 06 sull'autocolle, è perché c'è così tanti anni che ha una matricola così bassa all'interno del, oppure no, non c'entra quello. No, in realtà perché poi abbiamo dovuto rifondarla, perché noi eravamo una cooperativa, poi trasformata in cooperativa sociale, siccome nel 91 è stata fatta la legge, approvata la legge sul volontariato, perché noi non avevamo leggi o normative, e quindi a quel punto, per poterci iscrivere al registro regionale del volontariato, come cooperativa non ci accettavano, abbiamo dovuto trasformarla. Io sono uno dei fondatori della nuova pubblica assistenza, quindi numero 6, ecco. Ecco, legge già passata in realtà, perché sappiamo che nel 2017-2018 è arrivata la nuova legge sul terzo settore. Esatto, decreto legislativo 117 sul terzo settore, e anche lì abbiamo dovuto fare delle modifiche allo statuto, con tutti i costi che comportava, vabbè, comunque ormai ci stiamo abituando. Cosa significa essere volontario di una croce verde oggi, in una città come Milano? Beh, oggi vuol dire impegnarsi in tutta una serie di attività, perché noi facciamo soccorso, emergenza, urgenza per l'ex 118, chiamo ex perché ormai c'è il numero unico, 112, ricordiamolo, e fare tutta una serie di altre attività, tipo i trasporti sanitari per le persone che hanno bisogno di essere trasportate. Io faccio anche formazione all'interno dell'associazione e all'esterno, all'interno per i nuovi soccorritori, i nuovi volontari che vogliono entrare, e all'esterno per tutto quello che ne può comportare da BLSD laico, quindi l'utilizzo del defibrillatore per esterni, viene chiamato laico perché non sono soccorritori, e ovviamente tutta una serie di formazione, ad esempio negli asili, per l'isostruzione, per le immagini, e quindi impegnarsi oggi, diciamo che rispetto a quando sono entrato, nel 75 è un po' tutto diverso. Un po' questi cosi qua, che ci... I smartphone. Eh sì, perché... Allora, le associazioni di volontariato sono dei punti di ritrovo, poi noi facevamo soccorso, altre istituzioni facevano altre attività, ma è un punto di aggregazione tra persone, tant'è vero che io, mia moglie, l'ho conosciuta lì, e poi alla fine ci siamo sposati, ma non sono l'unico all'interno, ma poi c'era anche tutta una serie di... Ho una coppia di amici che si è sposata conoscendosi alla Corso di Verde Sempione anch'io, quindi devo dire che non siete gli ui. Perfetto, infatti. Funziona bene, aiuta, aiuta. Ma Tinder cosa? Andate a fare volontariato alla Corso di Verde Sempione. Come tutti i posti di aggregazione delle persone, io l'ho sempre definito un po' così, involontariamente, diciamo, un oratorio laico, ecco, l'ho sempre definito, perché l'oratorio di fatto... L'oratorio di soccorso. Ecco, l'oratorio di fatto era un punto di aggregazione per i bambini, i ragazzi, i giovani. E lì è uguale. Poi noi ci trovavamo anche all'esterno dei turni per fare, non so, serate, feste, mangiare... Però, Massimo, perché parli al passato? Perché adesso... Allora, i giovani di adesso sono un po' meno aggregativi, diciamo, come persone. Perché, dicevo, gli smartphone ormai stanno portando in un po' del sociale. Poi devo dire che il periodo del Covid ci ha veramente creato grossi problemi da quel punto di vista, perché praticamente, iniziato il Covid, noi abbiamo continuato a fare attività di soccorso. E devo dire che tutti gli anni che io ho fatto soccorso una situazione del genere non l'abbiamo mai vissuta. Ne ho vissute tante, anche di altre pandemie, anche di altre... dall'AIDS, eccetera. Ma questa situazione non mi è trovata. E poi avevamo il divieto di frequentare la sede se non eravamo di turno. Quindi questo ci ha un po' separati. Adesso stiamo cercando di riaggregarci, rincollarci, rincollarci, sì. Ritrovare quell'adesione, ma il grado, lo spirito, ovviamente, di i giovani di adesso. No, vedi, bisogna comunque infatti riuscire anche poi ad essere attrattivi. Non è facile ormai. Anche le normative non aiutano a volte, perché insomma, comunque avere adesso un'associazione di volontariato che fa un lavoro come il vostro non deve essere neanche così semplice? No, ecco, diciamo che noi dobbiamo avere una preparazione particolare. Diciamo che l'attività è demandata alle regioni e Regione Lombardia ha diciamo creato delle regole tipo per fare il soccorritore devi fare un corso da 120 ore. Poi, ovviamente, nel momento in cui superi l'esame certificazione con personale dell'Esoreu e superi l'esame in teoria potresti uscire tranquillamente come quello che noi chiamiamo capo servizio o capo equipaginal però ovviamente nelle nostre associazioni per nostro intendo le nostre associazioni Ampas perché noi aderiamo l'associazione nazionale pubblica assistenza e noi abbiamo tutta una come si dice un regolamento nostro per cui tu hai superato l'esame esci come quarto d'equipaggio poi quando dimostri le capacità di lavorare diventi terzo d'equipaggio e poi ovviamente diventi capo equipaggio se te la senti poi c'è anche il percorso da autista ecco perché noi abbiamo anche noi un regolamento non è che ti diamo l'ambulanza in mano appena entrati a tutti gli Ayrton Senna o Schumacher in ascolto non serve per andare veloce con l'ambulanza o fare le vostre prove di Monza no non è quello perché noi dobbiamo portare le persone in ospedale ma ci dobbiamo arrivare in ospedale prima di tutto dobbiamo arrivare sul posto e poi ci dobbiamo arrivare in ospedale l'anno scorso una nostra ambulanza è stata ribaltata in Montecenio Henry Bartolini arrivava in sirena ovviamente con la prudenza la macchina ovviamente è passata con il rosso per l'antifermo ovviamente la solita macchina che passa malgrado la sirena eccetera e l'ha ribaltata devo dire che fortunatamente questa volta è andata bene la causa ci ha dato ragione quindi per fortuna ecco perché c'erano tanto di filmati eccetera è importante quello che fanno l'opera che fanno le Croce Verdi sono tante a Milano sono storiche abbiamo raccontato appunto sono una storia che arriva da lontano ed è forse proprio qui che tu hai voluto appunto oggi portarci in ospite come Massimo giusto? sì perché partiamo sempre da un dato abbiamo per scontato alcune cose invece vale la pena anche andare un po' dietro le quinte alcune volte e capire come si formano determinate realtà come vivono determinate realtà e quali sono le condizioni perché noi abbiamo tutta una serie di regolamentazioni normative che molto spesso derivano da altri fattori e poi vengono applicate anche al volontariato ipotesi adesso la situazione delle Croci Verdi è diversa perché non hanno una struttura solamente di volontariato e quindi il volontariato si aggrega ed è una parte significativa ma se pensiamo anche a tutta un'altra serie di realtà per esempio abbiamo parlato di Cori Milano per le periferie noi abbiamo un migliaio di persone che vengono a cantare per le periferie questi qui non sono un'azienda non sono un'impresa e non sono nemmeno terzo settore sono volontariato però le regole invece di essere adeguate a questa situazione dicono ah volete fare delle cose dovete diventare tutti quanti imprenditori dovete tutti quanti strutturarvi con un'impresa è chiaro che poi come abbiamo sentito anche recentemente ieri abbiamo fatto un incontro dove venivano ribadite queste cose anche chi si propone al volontariato a un certo punto molla perché è difficoltoso e fragginoso muoversi io ho un lavoro faccio un certo tipo di attività di volontariato non devo fare un'altra impresa perché altrimenti faccio faccio un'impresa faccio due lavori faccio il secondo lavoro ecco quindi questo è importante che diventi anche però consapevolezza in generale di tutti quanti i cittadini non solamente degli addetti ai lavori cosiddetti perché poi se determinate cose accadono facilitano la vita sociale di tutti se facilitano la vita sociale di tutti è utile anche che tutti quanti ci mettiamo la nostra goccia di sudore chi per capire come funzionano le cose chi per dare una mano secondo delle varie possibilità però altro è estragnarsi cioè dire vabbè a me non interessa crediamo che possa e debba interessare tutti quanti a partire dai legislatori ecco perché i legislatori anche loro come fa uno a essere legislatore è legislatore se conosce la realtà e quindi può fare anche delle leggi che sono adeguate ecco questo qui è un po' il tema per cui anche nei focus periferie di ogni di ogni martedì noi portiamo una testimonianza che vive la realtà chiarissimo e adesso quale potrà essere magari il futuro delle croce verdi come pensate di comunque resistono come si dice siete qui e lottate insieme a noi ancora come si diceva una volta però funziona e sono fondamentali quello che fate perché vogliamo che voi oltre poi ad avere dei volontari avete anche dei professionisti che lavorano poi all'interno delle croce giusto come funziona noi abbiamo 13 dipendenti regolarmente assunti con contratto di lavoro che in questo momento è il contratto nazionale di lavoro ANPAS perché non esisteva prima un contratto di categoria quindi niente ognuno veniva assunto con contratti vari diciamo che da un po' di anni a questa parte ANPAS che ha deciso di fare il contratto nazionale perché sembrava corretto e noi abbiamo questi 13 dipendenti in più abbiamo qualche giovane dei servizi di diciamo adesso mi sfugge no servizio civile nazionale ah servizio civile ok perché quando a un certo punto hanno istituito durante il periodo in cui si faceva la leva io ho fatto la leva e c'era il servizio civile per gli obiettori di coscienza quando hanno deciso di non mettere più in prigione gli obiettori di coscienza hanno fatto questo servizio poi via la leva hanno comunque mantenuto questo servizio perché serviva sia alle associazioni volontariato agli enti e anche agli enti pubblici perché molti enti pubblici avevano questi giovani in servizio quindi abbiamo anche quello ecco una famiglia variegata diciamo esatto esatto diciamo che come siamo fieri anche di dare posto di lavoro a delle persone ecco ovviamente perché vuol dire molto al giorno d'oggi con un contratto di lavoro nazionale per far capire l'importanza che avete solo la vostra croce di quanti interventi parliamo e quanti operazioni nel senso fatte nel senso che poi non sono solo gli interventi di pronto soccorso o di emergenza ma sono anche appunto i trasporti insomma sono tante le cose che fate un'idea di massa non giuro che non vado a vedere se poi il numero è proprio correttamente quello all'unità diciamo in realtà su questo non mi sono preparato però si parla di migliaia di servizi all'anno perché in effetti poi c'è dentro di tutto dalla persona che chiama perché ha la febbre che poi magari rinuncia al trasporto a invece cose più serie più gravi quindi noi giornalmente si faranno un centinaio di trasporti per quanto riguarda le emergenze tutti poi comunque in capo ad Areu cioè al famoso 112 che smista poi tra le varie croci sul territorio le chiamate quindi insomma volete capire che anche a livello proprio di coordinamento anche tecnologico perché sappiamo insomma avete delle tecnologie per rimanere appunto sempre collegati sia con la sala centrale dell'agenzia emergenziale appunto la 112 sia con chi ha chiamato sia con la vostra sala operativa insomma è veramente un lavoro molto grande Walter ho visto che hai preso appunto e hai scritto migliaia di numeri sul tuo foglietto no volevo recuperare un libro ok sì c'è la Massimo te lo può passare perché ritorniamo sempre al dato qui così c'è da Croceverde Musocco a Croceverde Sempione che è un libro interessante che ha scritto Antonio Barbalinardo che ha curato Antonio Barbalinardo in occasione dei cento anni di storia ma voglio richiamarmi al libro proprio perché i libri vengono fatti una volta appunto in questo caso per i cento anni ma crediamo che siano uno strumento significativo ritorniamo alla questione del centenario degli antichi comuni milanesi noi abbiamo fatto un 70 diciamo così conferenze basandoci proprio sui libri che erano stati fatti da storici locali alcuni li abbiamo anche presentati qui il libro degli antichi borghi milanesi di brichetti delle edizioni meravigli che sono stati proprio fatti ad hoc per questo centenario piuttosto che altri ecco allora ci sono proprio i libri di queste realtà centenarie o meno solo che sono l'occasione di ripresentazione perché invece di abbiamo fatto il libro lo presentiamo una volta per tutte poi arrivederci e grazie invece possono essere proprio l'occasione per ridestare un'attenzione e raccontare una storia ma una storia appunto che ha le sue origini in questo caso nel 1909 ma che prosegue esattamente nel 2024 e quindi è anche un fattore conoscitivo dicevo prima della necessità che i milanesi conoscono Milano e i milanesi anche possono conoscere quelle che sono le storie di chi ha interpretato Milano così da lungo tempo ecco per cui abbiamo parecchi libri inviterei tutti come appunto abbiamo fatto nel corso di questo centenario a creare delle occasioni magari anche un pochettino strutturate non solamente occasionali ma strutturando un percorso abbiamo fatto appunto il convegno del 21 con il centenario sociale come l'abbiamo chiamato noi una cooperativa abitativa ha portato il suo libro ecco magari era rimasto lì ormai da un decennio perché tutti fanno quando c'è il centenario molto spesso ecco invece può essere un'occasione interessante soprattutto dal punto di vista didattico la stessa didattica dove se io penso alla mia condizione ma anche alla condizione di tanti altri chi è che è capace di fare del primo soccorso succede qualcosa su una spiaggia qualcuno che sta male in metropolitana chi è che è capace di fare il primo soccorso dovessi dire io ma ho visto qualcosa alla televisione e invece sono quegli elementi probabilmente che dovrebbero entrare poi magari addossiamo alla scuola tante cose però ci sono alcuni aspetti che riguardano proprio la vita sociale e la vita proprio diciamo così proprio dello stare vivi che può essere utile dicendo faccia voi andate in alcune scuole però non tutte quindi insomma è un'operazione che magari potremmo abbiamo fatto abbiamo fatto e abbiamo ancora in programma corsi sia nelle scuole sia in associazioni ecco per il discorso del BLSD ovviamente ci sono delle associazioni che hanno anche l'obbligo tipo associazioni sportive e quindi hanno l'obbligo di avere il defibrillatore e quindi di dover fare la certificazione però anche nelle scuole sicuramente l'abbiamo fatto è lasciato alla singola scuola l'idea la sensibilità bravissima e invece va bene la sensibilità anzi quella lì è fondamentale perché ognuno ha le proprie appunto sensibilità però qui ci sono tutta una serie di temi strutturali come abbiamo detto che conoscere Milano la storia di Milano conoscere il territorio di Milano non è una questione di sensibilità perché poi abbiamo visto più volte che anche chi va a assumere responsabilità nella città di Milano non conosce Milano e allora che cosa fa? fa quello che può interviene dove conosce solamente che in linea di massima noi conosciamo il 10% della nostra città è peccato che uno è chiamato magari a intervenire sul 100% della città e il 90% non sa nemmeno dov'è ritorniamo al discorso dell'ABC della città conosce l'ABC della città vuol dire conoscere i toponimi i luoghi i quartieri le realtà che ci sono passiamo sempre con Assiano che è sconosciuto dopo di che passiamo a Basmetto che anche quello lì non è conosciuto granché poi passiamo a Cavriano Cavriano ma forse che è già Cagnola è poco conosciuto siamo arrivati alla C ma poi potremo continuare ecco allora è fondamentale che noi ritariamo anche il tema di quello che andiamo a insegnare ai nostri ragazzi perché se non lo conosciamo noi milanesi diciamo così autoctoni figuriamoci i 300.000 residenti stranieri a Milano scusate ma è una responsabilità di chi ci sta prima e anche di accoglienza nei confronti di chi arriva tra questi stranieri calcoliamo anche i versetti che arriva da Cardano al campo nel senso anche chi arriva da Varese è straniero no scherzo non l'abbiamo ancora voluta come residente mi risulta ma lei sta bene là deve superare gli esami deve superare gli esami deve superare allora siamo arrivati alla fine Massimo ti chiedo come possiamo sapere di più su Croceverde e cosa possiamo fare anche magari per avvicinarci o dare una mano a Croceverde allora beh Croceverde a parte il libro che adesso probabilmente dovremmo rivedere un attimo infatti Antonio Barbarinardo ci sta pressando per fare magari degli aggiornamenti e eventualmente ristamparlo però noi abbiamo un sito come ce l'hanno tutti ovviamente ormai non si può farne a meno che è www.croceverdesempione.org e lì ci sono tante informazioni aiutare diciamo che l'aiuto che ci può venire è invito chiunque se la sentisse di venire a fare il volontario non è necessario che sia un giovane diciottenne anche se ha qualche anno in più io sono un esempio vabbè lo faccio da 49 anni tutta esperienza ecco sì e poi ovviamente noi viviamo di abbiamo bisogno dei soldi perché quello che facciamo noi attualmente non è sufficiente come trasporti eccetera quindi ovviamente le offerte che possono arrivare che come tutte le offerte sono ovviamente ben accette esantasse vengono inserite io proprio più sulla cosa che sono ben accette sono ben accette e poi ovviamente e poi il 5 per mille noi siamo riusciti anche noi a inserirci nel 5 per mille che aiuta anche quello quando arriva aiuta quando arriva continuate a darlo continuate a pagare continuate a farlo poi i volontari ecco volontari ci servono sì quello sì grazie Massimo grazie mille Walter grazie anche a te noi ci vediamo martedì prossimo se vogliamo comunque approfondire un po' di temi soprattutto su i toponimi sulle le famose mappe c'è il vostro sito comunque che ha delle mappe interessanti per dare un quadro generale del città su periferiemilano.com sicuramente c'è una mappatura delle realtà sociali per quanto riguarda territoriali io richiamerei al sito di Urban File che ha fatto un lavoro significativo di articolazione e suddivisione del territorio così uno capisce dove sta Basmetto che non è propriamente gratosoglio tanto per intenderci chiarissimo e allora grazie mille ai nostri ospiti grazie mille anche a voi che ci avete seguito ci rivediamo ci riascoltiamo e ci ritroviamo qui con il Focus Periferia martedì prossimo a presto